Leggere, scrivere e giocare a scacchi per Luca tutto è iniziato a sei anni. Anche la sua più grande passione, quella che lo sta portando in giro per il mondo e che nel 2017 lo ha fatto diventare campione italiano. La scacchiera, che agli occhi di un bambino appariva piena di pezzi, tutti diversi l'uno dall'altro. È andato subito tutto bene, perché ho fatto il primo torneo in cui sapevo appena iniziare a giocare a scacchi, quindi non è andato benissimo, ma il secondo torneo è stato il campionato regionale Underotto, che ho vinto, non avevo ancora sette anni, e quindi da lì il bambino che vince la Coppa, alla fine il bambino è più contento, è più stimolato a giocare e quindi continua a vincere. Poi si gioca agli italiani, mondiali e quindi alla fine si continua a vincere. Tra tutti i trofei conquistati, quello di cui va più fiero è la Coppa che lo ha incoronato campione italiano. Il titolo assoluto, soprattutto per me che non sono neanche maggiorenne, diciamo che mi ha dato una soddisfazione in più per tutto il lavoro e tutta la passione che sto dedicando. Ma cosa serve per essere un campione di scacchi? Logica, concentrazione, pazienza, che a volte bisogna anche avere pazienza, sono molto aiutati, quindi è un gioco fantastico, non solo dal punto di vista del gioco, ma anche per altri aspetti. Quindi è divertente? Sì, sì, mi diverto un sacco. Non giocherei se non mi divertissi. A Bologna Luca è arrivato per raccontare la sua grande passione, con una lezione, una cena di gala organizzata dal re della lasagna, Gilberto Argini, e con una partita in simultanea. Il mio record personale è di scacchiere 120, quindi posso gestire quante ne voglio volendo. Certo che più scacchiere sono, più impegnativo.